Il Signore Invidia Amore E di fatto, grazie Invidia Grazie Grazie a tutti, in modo che vogliamo fare Dobbiamo tagliare sul campo Veramente E come la taglierei? Tipo col pezziero? O mi date un coltello o qualcosa? Datemi un coltello E cosa ti vuoi fare? Siamo degni a gusti in demano Bene, vi volevo dire Che qui in Sicilia siamo famosi Per i dolci I dolci di ricotta che riusciamo a produrre Da questa parte Da Sicilia ma anche a Palermo Devo dire, sono molto buoni Ci sono delle differenze Però sono veramente molto buoni Consiglio a tutti di venire a Sicilia In Sicilia per gustare Questi zuccheri super alcalini E' un desiderio? Assai, assai ne ho un desiderio Però stasera se ne avvera tove Bellissimo E io vi ringrazio veramente Per aver passato con me la sera Per me compiando Ora non è che tenendo un pochettino giusto Perché non ci basta Ma simbolicamente Vedo una fetta a tutti quanti Simbolicamente Grazie 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 Grazie